Le questioni ambientali e le sfide della sostenibilità al centro del dibattito di Circolando. L'incontro è stato promosso a Bari da Confartigianato in occasione della settimana per l'energia e la sostenibilità. Il ruolo delle imprese in questo processo di cambiamento è nodale per sviluppare nuovi modelli di business in grado di generare crescita, sviluppo e valore. Affrontiamo un tema del momento, quella della sostenibilità energetica. Noi come Confartigianato abbiamo assunto questo impegno nei confronti delle nostre aziende a livello nazionale. Non a caso abbiamo 50 iniziative che si sviluppano tutte nella stessa giornata. È un tema importantissimo dopo quello che abbiamo subito con l'aumento dei costi energetici. Quindi le nostre imprese vanno aiutate, vanno sostenute, vanno indirizzate con progettualità che Confartigianato intende mettere in essere per aiutare le nostre imprese. Aderire a questo nuovo modo di fare impresa come quello delle società Benefit può creare un grande slancio per la competitività delle aziende sul mercato. Sostenibilità oggi significa essere più competitivi sul mercato e significa anche avere più resilienza rispetto alle sfide che l'economia, l'ambiente e la società nel lungo termine possono porre dinanzi al cammino di un'impresa.